ciao a tutti vediamo insieme uno dei nuovi problemi per la patente nautica in questo caso si tratta di un problema di carteggio per la patente entro le 12 miglia il numero 1 del pdf ministeriale relativo ai nuovi quiz vediamo insieme di che si tratta allora si parte alle 9 da capo sant'andrea il problema ci dice che a nord dell'isola d'elba e capo sant'andrea è questo capo qui così e siamo diretti a capo d'enfolà con velocità 5,5 nodi capo d'enfolà è questo considerando che il consumo orario del motore è pari a 10 litri all'ora dobbiamo determinare la distanza da percorrere l'ora di arrivo il carburante da imbarcare le coordinate del punto di partenza e le coordinate del punto di arrivo di questi cinque quesiti dovremmo rispondere correttamente almeno a 4 per superare la prova allora iniziamo come sempre con lo scriverci in maniera più possibile ordinata i dati del problema quindi siamo a capo sant'andrea alle ore 9 e andiamo verso capo la nostra velocità è uguale a 5,5 nodi e il consumo del motore è pari a 10 litri all'ora a questo punto possiamo iniziare a tracciare la rotta che dovremo percorrere la rotta da capo sant'andrea a capo d'enfolà in questo caso prenderemo proprio per capo sant'andrea prendiamo il limite più possibile nord del capo e la stessa cosa faremo su capo d'enfolà non essendoci dei punti cospicui che rendano più immediata la localizzazione dei due punti partiamo tangenti con la nostra rotta a un capo e arriviamo tangenti all'altro a questo punto non è richiesta ma io consiglio sempre di provare a misurarla il valore della rotta vera giusto perché bene saperlo fare possiamo misurare facilmente sovrapponendo la linea di fede della squadretta la rotta appena tracciata e riportando col metodo della squadretta sul meridiano e andiamo a vedere che la rotta in questione è una rotta di 77 perché stiamo andando in direzione nord est e quindi di 77 gradi quindi se fosse richiesto in questo caso non lo è ma se fosse richiesto la rotta vera di questa questo è tracciato e di 77 gradi quindi 077 torniamo a quello che richiede invece l'esercizio dobbiamo calcolare la distanza misurare o meglio calcolare misurare la distanza apriamo il compasso tra i due capi e andiamo a riportare questa distanza presa col compasso sulla scala delle latitudini a fianco alla carta e misuriamo 5,5 miglia quindi lo spazio da percorrere sarà spazio uguale 5,5 miglia nautiche quindi abbiamo risposto già al primo quesito la distanza è di 5,5 miglia a questo punto avendo lo spazio da percorrere e la velocità possiamo facilmente calcolarci l'ora di arrivo il tempo impiegato sarà tempo uguale spazio diviso la velocità ovvero 5,5 miglia diviso 5,5 nodi di velocità quindi impiegheremo esattamente un'ora per percorrere il tratto previsto partivamo alle 9 quindi se impieghiamo un'ora l'ora di arrivo saranno le 10 in punto a questo punto dobbiamo calcolare il carburante da imbarcare occhio perché qua bisogna sempre ricordarsi di tenere presente il margine di sicurezza del 30 per cento quindi quindi navighiamo un'ora consumiamo 10 litri all'ora quindi il carburante effettivamente bruciato sarà di 10 litri all'ora per un'ora di tempo quindi 10 litri ai quali dobbiamo ancora aggiungere il 30 per cento è un modo facile per farlo e moltiplicare il tutto per 1,3 e quindi otteniamo 13 litri di carburante da imbarcare quindi la risposta in questo caso carburante da imbarcare è 13 litri infine il problema ci chiede di misurare le coordinate del punto di partenza e del punto di arrivo per fare questo in maniera precisa il mio consiglio è quello di tracciare sempre con la squadretta un meridiano o un parallelo che passa per il punto in questione che ci faccia un po da linea guida e ci aiuti a prendere la misura nella maniera più precisa possibile per capo sant'andrea che è il nostro punto di partenza tracceremo il meridiano in questo caso ma è uguale anche il parallelo solo che qui il disegno della carta è un pochino più pasticciato quindi lavoriamo meglio tracciando il meridiano che passa nel punto e andiamo a prendere quindi lungo la linea guida appena tracciata la distanza che c'è tra il capo e il parallelo più vicino questa distanza andrà poi riportata sulla scala delle latitudini per misurare la latitudine del punto quindi siamo a 42 gradi 45 46 47 48 primi virgola 5 nord quindi abbiamo detto latitudine 42 gradi 48 primi virgola 5 nord per quello che riguarda la longitudine dovremmo fare la stessa cosa dovremmo misurare la distanza tra il capo e il meridiano più vicino ma di nuovo farlo qui rischierebbe di essere impreciso possiamo sfruttare la linea di guida di prima e andare a misurare in questo punto quant'è la distanza tra il meridiano già tracciato sulla carta più vicino e il meridiano che ci siamo tracciati prima che passava per il punto e andiamo a riportarla sulla scala delle longitudini e misuriamo un 0 10 gradi 0 8 primi virgola 5 0 10 0 8 virgola 5 est quindi 0 10 gradi 0 8 primi e queste sono le coordinate del punto di partenza per quello che riguarda il punto di arrivo capo d'enfola dovremmo fare la stessa cosa nel caso di capo d'enfola di nuovo possiamo tracciare il meridiano che passa per il punto e andiamo a misurare quanto vale la distanza tra il capo e il parallelo più vicino e siamo a 42 gradi 49 primi virgola 7 nord e per la longitudine facciamo la stessa cosa di prima prenderemo la distanza lungo il parallelo tra il meridiano e il meridiano che abbiamo tracciato sul sul punto indifferente possiamo prendere questo oppure la distanza dal meridiano dopo l'importante è riportare esattamente al suo posto il punto sull'apertura di compasso sulla scala delle longitudini quindi ad esempio prendiamo la distanza del meridiano di capo d'enfola dal meridiano 10 gradi 10 primi e la riportiamo per leggere la misura qui sono 0 10 gradi 15 primi virgola 8 est quindi la longitudine a 0 10 gradi 15 primi virgola 8 est in questo modo abbiamo risposto a tutti e 5 i quesiti e il problema è finito qui abbiamo fatto questo video per i nostri allievi ma se anche voi l'avete trovato interessante o se vi è stato utile metteteci un like condividetelo e tornate a visitare la nostra pagina dove saranno presto pubblicati altri esercizi svolti e approfondimenti ciao 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 ciao